Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, il studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove si segnalano 3 km di coda per il traffico intenso tra Ulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bibio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPILI in direzione Mare Code tra Darsena Toscana Est e Livorno. In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per la viabilità cittadina a Firenze in via Faenza sono in atto i lavori di riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!